Proseguono le indagini della squadra mobile della questura di Avellino per risalire agli autori del furto alla ASL di Via degli Mimbo. Rubati farmaci che servono per curare patologie neuromuscolari ed artritiche per un valore di quasi 150.000 euro. Molto presumibilmente il percorso dei malviventi è quello. Sono scesi dalle campagne antistanti all'edificio della ASL allo scavalcato per poi scendere su questa lamiera e da quel muretto lì sotto entrare in una delle finestre dei locali della farmacia. Il commissario Mario Ferrante ha assicurato che le scorte dei farmaci sono state prontamente ripristinate e dunque garantita l'assistenza a tutti i pazienti. Naturalmente si stanno visionando le immagini del circuito di videosorveglianza per capire quale può essere stato appunto il percorso dei malviventi e soprattutto provare a ricostruire l'identikit. Sono farmaci per la crescita, farmaci antitumorali, farmaci l'eritropoetina ci sono farmaci che vengono utilizzate per molte patologie importanti per l'organismo e per combattere alcuni tipi di malattie ma sono anche farmaci che possono avere anche un effetto dopante. Noi come azienda già abbiamo provveduto anche a rimbalzare le scorte e quindi diciamo il malato non avrà alcun disagio, il danno l'abbiamo avuto noi come azienda ma il malato quello che doveva avere avrà anche in futuro. Noi abbiamo la Cosmopol che ci garantisce H24, la guardia e c'è l'impianto di videosorveglianza. Adesso gli organi inquirenti stanno valutando un po' tutto quello che è avvenuto e vedere anche probabilmente con le telecamere vicine, tutto di perimetro, di quartiere non so che cosa loro vedranno e che cosa succederà. Grazie.